bruh siiii è bello a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video di spelanky 2 e oggi sono qui con 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 come? con siamo tutti con siamo tutti con ok guarda un gioco dove io ho giocato tv 10 minuti e volevo aver deciso di fare video un gatto dobbiamo prendere gatto non aspetta prima devo recuperare il gatto è di importanza vitale e ha detto è giusto bello yeeeh gatto ok perfetto ok facciamo finire allora qua ci sono cose inutile quindi inutile esatto quindi non ci a parte il fucile eh vabbè poi tra l'altro tutti vecchi su modo c'è un fucile appunto poi sono 70.000 beh andiamo andiamo magari non distruggere quel vaso per cortesia si 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 ok 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 dove sei capol su agliat ma sei vivo sei morto eh sono vivissimo completamente vivo ma l'interno del governo è morto qualcosa è esploso qual cosa cosa di aia il mio accordo ma dai tu cugina cernobog cuore di cernobog c'è la cernob ma se che quella si chiama un certo la corduta cernob non sa perché sono morto eh tranquillo ho fatto il tuo corte insieme me il tuo corte il tuo corte tranquillo il tuo corte vede mi ha serrito il tuo corte lì e anche io eh eh signore io ti consiglio di non farlo però tranquillo tranquillo voilà così così c'è la vedi fu sento lo sono dei tamburi e non è che sono morto per sempre tornare se danni va un po' giù la schermata e vai tipo così ok aspettami allora ok grazie per avermi ammattato per l'istrello ma ora sei meglio che tu te ne vai io c'è un coso so ok aspettami io so come combattere il coso grosso è grosso è grosso è grosso tranquillo io so come combatterlo vai tu eh non così ci vorrebbe il fucile a pompa e di solito subito usarlo col fucile a pompa e non provare il fucile a pompa ok perfetto così ok così ok così ok però adesso il vecchio deve tornareci indietro ok non funziona così la logica di questo gioco però congelo ho un'idea no no tranquillo tranquillo possiamo andare qui prendiamo la luciola e i soldi tutti tutto quello che ci serve tu ci sei mai arrivato qui da solo con un cracker certo sì però so dettagli bombe no andiamo giù ma chi è aspetta aspetta aia trappola di morire oddio aspetta aiuto tranquillo quello nuova zona una bella sensazione del po faccia dire che non ci sono stato in vulcana avevo cambiato stage signore incredibile non ci siamo arrivati nice dicevo cosa dicevi sono no 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 era il nostro primo traguardo quello stupido e' la barba di mangiare la città di mezzo secondo mezzo e' la non non perché il bistrello non erano il treno scorpion aspetti sono mortissimo io vorrei prendere il tuo loot ma il problema è che la difficoltà è molto ampia bene c'è un mut vediamo se c'è da qualche parte no non c'è una soluzione non ci non ci almeno qua vicino non ci riesce posso controllare cose utili e' un gatto l'applicato prendo gli atti voglio continuare quante bombe c'ha vai tu piazza la bomba io lo congelo tu sei ricercato easy e' adesso come facciamo ritornare nella zona lavica e' adesso e' adesso e' adesso e' adesso e' adesso e' palese attento un giorno allo finire un giorno molto lontano però un giorno molto tipo domani e' domani e' domani e' dopo domani e' dopo domani e' dopo domani e' finito il gioco domani e' dopo domani e' domani e' abbiamo finito il giorno allora attenzione allora come l'ho allora pensavi eh e' lo triggerata si è triggerata da sola aspetta devo buttare giù il cubo di ghiaccio qua il cubo il cubo palesemente di ghiaccio e' adesso pensavo ti dico cosa ho fatto cosa ho fatto cosa ho fatto una sesta utili simo simone simone allora gialluca la roba è la chiave di salana metti la cala assolutamente no no va qui perchè ci ha rompere solo due strati te pastello te pastello io prendo la chiave e questo qui io non te io prendo la chiave e questo qui se devi grazie macchina fotografica tu v'hai quello ok tu cos'è attento se ti deve portare dentro muro muori quindi non te lo consiglio perfetto che bello in questa cosa cosa ho fatto il vecchio ma non sta sparando bravo 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 continua continua a correre continuano a ricarlo ripallo 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 cazzo dalla luce dalla luce io continuo bravo 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 qualcuno riuscito c'è ma io no ma voi anche ah perchè il vecchio rega posso cercare le cose che vengono e che si legge capeggio sposti io la data leva ticciati vabbè capire anche i migliori dimmi che c'è una cosa qui ti prego dimmi che c'è ho tirato la trappola perfetto boh da dimmi che c'è vai un po' di qua no no ti strello di me devo pure la chiave dello scherzo superi per me la vita ma non dobbiamo picchiare il tizio la no ma non dobbiamo non dobbiamo non dobbiamo aprire è fondamentale sono morto anche io il mio corpo per il mondo ciao gatto 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 oh elefanti gatto gatto dai molti semi sono troppo difficili e allora questi segni il mio uomo è un dubbio no infatti ti vedo un po' la gatta ti devo dire ma poco tranquillo con la l'idea è soltanto dettagli il nome non è utile sei morto ho visto il tuo fantasma per un microsecondo e quello è l'importante ok sei sei molto scattante mi dicono hai un busto si sono morto tranquillo tranquillo ti ho salvato io ma mi sta tranquillo prendere tacchino no non dobbiamo rapinarlo lui francesco no io voglio rapina guarda che bei oggetti che ce l'ha eh no sono inutili ok perfetto rapito tacchino l'importante è quello se ti dicessi che sono morto che sono vivo per miracolo ha meno appunto sono morto per colpa multitude benestri ma lei ha detto patin sono ed capite pan 77 l'onore Auntie ti водona italiana amont ه pals i in i libri deve dobbiamo trovare il gatto perché sennò ho una vita per tutta la vita ok fordine ci deve essere il gatto qualche altra parte ma poi con quale io sono alla fine ma con quale gatto posso trovare? chi cavolo di gli streni eh c'è il cattatore lì ho capito finire ah no capito simon mi serve ecco il suono dei tamburi oh ma va attento tempo cosa mi ha ucciso possibile che siamo non lo so andiamo a dire da capo mi senti mi senti la gara è troppo o no ho ricordo da me se se è già arrivata la fine si eri quanta oh mio dico sto laggatottissimo ho il gatto guarda 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 no aspetta bisogna recuperare il gatto no dimentico è non è vero è vivissimo è vero adesso guarda lo recupero ma come siete fino a qui è assolutamente vivo non è assolutamente morto signori e infatti lo dimmi sono molti scienziati è lenta sui animali sono morto io piuttosto non è vero non è vero è vero è vero sei ce l'ha con il mio cadavere col signor Lee non è morto è non è morto non è morto non è morto non è morto troppo morto troppo 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 basta capa speedrun troppo si rossi 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 corde che che barbatello le bloccarelle le bloccarelle le bloccarelle le sgolto oh si ma sei gay c'è questa easy aspetta che non faccia scoppiare tutto perfetto tutto tutto il tuo cadavere ho distrutto il tuo padre perfetto il 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 spieccicare chiunque non volevo farlo il 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 non è vero io non voglio farlo ti penso io ma perchè il 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 coro 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 ok c'è un video 2 3 4 5 c'è il tuo il 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 mondo c'è il tos la ro la attenzione attenzione x off attenzione attenzione la ما 2 2 20 per vincere 안에 ho scheggiato il pagurla paulano ma io troppo tu non sei cominciato scuola che sto mica io spieghi balda è impossibile questo gioco è troppo facile basta un versos sono sd chiede ok ho una o una vita poco o una o una vita l'uomo fatemi passare da qua sopra l'ultimo per l'alto ammorto armandone allora finisci il gioco per andare a volare qua la riscosta dell'armandone no stoppino il posto tolto il posto per me non scappare il ce l'ha per quello posso dire questo gioco un po' molto questo gioco un po' molto questo gioco molto facile non mi ricordo molto il 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 va bene penso che questo video si penso che questo video si possa concludere così mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la lampella e mettete like se volete un altro video si spela anche e lo darò anche se mettete like però dovete mettere lo stesso ciao